Le false promesse di Marsilio e della sua maggioranza circa gli aiuti al settore turistico, in particolar modo parliamo del contrasto all'erosione costiera. Nel giugno del 2020 il Consiglio regionale ha approvato una legge stanziando un milione di euro per indennizzare tutti gli operatori della costa offensi dalle mareggiate 2019. Da giugno 2020 purtroppo tutti gli operatori non hanno ricevuto nulla. La giunta Marsilio doveva solo approvare una delibera di giunta per definire le modalità di concessione di questi contributi. Purtroppo sono passati mesi, tanti mesi e la giunta regionale non è stata capace nemmeno di approvare le modalità di erogazione di questo contributo. Ci appostiamo a vivere la prossima stagione turistica. Nel 2020 non hanno avuto né indennizi, né ripascimenti, né tantomeno scogliere. Per il 2021 si prevede un anno ancora più difficile.